bella raga 4 a 0 a lecce in trasferta altra vittoria boom boom bella pesante che mi fa abbastanza godere rispondiamo al culo spanato di allegri perché io la partita non l'ho vista però ragazzi che la vincono sempre a 10 15 secondi dalla fine ha solo un nome si chiama due parole culo spanato non ci sono altre altre storie ma noi proseguiamo andiamo dritti in una giornata dove volenti o nolenti abbiamo dovuto fare un turnover importante pesante con tanti giocatori sostituiti ma un turnover che comunque ci ha portato a casa un 4 a 0 in casa del lecce che comunque una squadra che pressa che cerca di darsi da fare che dà fastidio e noi comunque siamo stati bravi a venirne fuori dopo un primo tempo dove chiuso sull'1 a 0 grazie a un gol di lautaro al quindicesimo su un assist di aslani e ci tengo a sottolineare l'assist di aslani perché questo ragazzo se prosegue e ha la pazienza di aspettare il suo momento piano piano guadagna sempre più fiducia sempre si alza di livello potrebbe diventare un giorno anche il titolare dell'inter deve semplicemente crescere di personalità e di livello se ha la pazienza di aspettarli non voler andare in prestito da qualche parte potremmo avere le chiappe coperte anche in fase di regia un primo tempo comunque dove il lecce è vivo non ci sono grandi occasioni da una parte o dall'altra si conclude 1 a 0 per noi poi secondo tempo il lecce cala leggermente e noi ragazzi dilaghiamo 2 a 0 di fratesi con una gran percussione di bisec centralmente un'ottima rifinitura di sanchez che ragiona da campione qual è e la mette lì perfetta per fratesi pronto alla zampata sottoporta 3 a 0 di assist di lautaro con assist di fratesi e a me mi sono subito venuti in mente i vari gobbi gonzi giuventini milanisti che facevano tutti i discorsini e ma fratesi fratesi è costato 35 milioni 35 milioni di fratesi 35 milioni per un ragazzo che comunque sia il suo apporto lo sta portando ragazzi lo sta portando in maniera pesante e pensate anche sempre tenetamente che dovessero allinearsi gli astri e non vendere a centrocampo i pezzi pesanti prossimo anno arriva zelischi al posto di classe né così giusto per rinfrescarvi la memoria su come stanno lavorando ausilio marotta e bacini poi al 67esimo perché noi abbiamo fatto un boom 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 53esimo 55esimo 67esimo arriva il 4 a 0 di devrail su calcio d'angolo partita in cassaforte e poi via giù di cambi entrato anche biuchanan a kinsamiro della primavera e quindi abbiamo fatto veramente alla fine un allenamento di ottimo livello in vista della partita tosta che ci aspetterà mercoledì contro atalanta la partita ragazzi ovviamente il secondo tempo ha rotto definitivamente quel minimo di equilibrio che c'era stato nel primo con xg 2 80 per noi contro 0 78 possesso palla 61 per cento per noi ti riporta 7 a 2 e mi piace sottolineare una cosa mi piace sottolineare i contrasti 40 a 30 una squadra che mi va in trasferta e vince i contrasti mi fa godere mi fa godere tantissimo perché io martello sempre sui contrasti i contrasti far sentire la presenza far capire l'avversario che c'hai le palle che sei tosto sei pronto al corpo a corpo quelle cose mentalmente incidono ragazzi quindi risposta alle chiappe enormi della juve di allegri fatto adesso turnover con rotazione abbondante fatta con un bisseco ottimo un ottimo aslani giocatori che hanno dato il loro sanchez sei amico si è comportato da campione e mi ha fatto piacere peccato che non ha trovato il gol adesso ragazzi la partita con l'atalanta va vissuta con la decisione giusta però senza le pressioni cioè deve essere come un jolly te lo devi giocare con intelligenza cosa voglio dire con questo voglio dire che non sbilanciamenti non ci non apriamo cosce larghe alla renault cioè per noi una partita potrebbe finire anche in pareggio per noi sarebbe sempre un passettino avanti un passettino in più sulle avversarie staccare magari il la juve portarla a meno 10 cioè ragionarla bene quella partita come interpretarla secondo me bisogna stare molto molto concentrati non non vorrei sprecare il jolly hai capito quello che voglio dire qualcosina la vorrei portare a casa se poi arrivasse la posta piena e allora si gode tantissimo ragazzi per il resto che dire un bellissimo finale di domenica ce la godiamo la partita con lecce ripeto nascondeva diverse insidie con anche dovuta al fatto che eravamo costretti ad un turnover così importante e hanno risposto bene e mi sono piaciuti parecchio quindi veramente c'è da godere ragazzi c'è da godere stiamo facendo ottime cose ma come voglio sempre ripetere il lavoro non è finito e finché il lavoro non è finito bisogna spingere sull'acceleratore bella raga per me c'è solo l'inter